Anno 2050, terra, guerre atomiche, distruzione, non è rimasto più in interma, i governi hanno in mano il potere, sì solo loro sono la ricchezza e fuori soltanto la povertà, ma i governi un bel giorno decisero che era il momento di partire, sì di fare quella lunga spedizione che ormai da decenni predestinavano, ormai sì negli ultimi anni non si faceva solo che ricevere degli strani segnali, da qualche posto, là, là fuori, nello spazio infinito. Decisero quindi di partire con una squadra specializzata solo in azioni intergalattiche, ormai da tempo non si faceva altro che pensare cosa fosse, cosa fosse quel segnale lì che non si capiva da dove proveniva. Probabilmente, sì, in qualche pianeta, fuori nello spazio, in qualche pianeta, ma quale? Una squadra militare partì, composta da 250 uomini, ma lungo il tragitto cominciarono degli strani fatti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.